Sicilia, il capannone dell'Accord Phoenix, l'azienda nata dopo il terremoto per la raccolta e il riciclaggio di materiali elettronici. Ad apporri la Guardia di Finanza al termine di un'indagine condotta dalla Procura della Repubblica dell'Aquila. Stando a quanto si apprende nello stabilimento, sarebbero stati stoccati rifiuti pericolosi e non per complessivi 105.000 kg di scarti di materiale elettronico, seppure non fossero state istruite le dovute autorizzazioni. Le fiamme gialle hanno contestato anche le localizzazioni degli impianti che sono stati acquistati per l'avviamento della prima linea di produzione. Nel registro degli indagati per una serie di reati ambientali sono attualmente iscritte in tre il presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale Ravi Shankar, il consigliere di amministrazione e direttore generale della stessa società Francesco Baldarelli e infine il responsabile della produzione, il danese Hans Jorgen Lundo, i quali sono assistiti dagli avvocati Agnelli e Verini. Come spiegano i legali, l'azienda è pronta a porre in essere qualsiasi tipo di correzioni nelle procedure ambientali al fine di tutelare l'occupazione, mentre escludono l'ipotesi che le indagini possano riguardare anche la sovvenzione pubblica di 10 milioni di euro assegnata all'accordo Phoenix, presa dal 4% dei fondi per la ricostruzione post-terremoto destinati al rilancio economico e produttivo della città, assegnata tramite un accordo con l'Agenzia Invitalia. Proprio in virtù di questo accordo, l'accordo Phoenix si era impegnata a riassumere 128 persone, in larga parte dipendenti fuoriusciti dalle crisi industriali delle aziende Finmec, Fida, Intercompel e P.A.S. Service, ma i sindagati hanno denunciato tra essi troppe consulenze o profili esterni e solo 9 operai riassorbiti.